Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, benvenuti in questa nostra diretta quotidiana con la quale, more solito, proveremo a ragionare criticamente sul nostro concitato tumultuoso e aporetico presente. Grazie a tutti gli amici, a tutte le amiche, a tutti i nemici, a tutte le nemiche che si collegano con noi per questa diretta domenicale, che si chiama come tutti gli altri giorni il parresiasta, che nella Grecia classica era la figura di colui il quale sbottava la verità in faccia al potere. Grazie a tutti, anzitutto ringrazio i tantissimi che stanno leggendo già il mio nuovo libro, eccolo qua, Sinistrash contro il neoliberismo progressista, lo trovate in tutte le librerie d'Italia, edito da PM, è uscito proprio in questi giorni, eccolo qua, Sinistrash può essere anche un bel regalo di Natale, magari un regalo indigesto per rovinare il pranzo di Natale a chi crede ancora nel mito della sinistra neoliberale e progressista, eccolo qua. Grazie a tutti, adesso entriamo subito nel vivo della diretta, vi ricordo che il nostro motto è liberi di sapere e di far sapere, quindi vi chiediamo gentilmente di supportare il nostro pugnace gruppo di lavoro abbonandovi alla pagina Instagram, al canale YouTube o alla pagina Facebook, così facendo avrete contenuti esclusivi e in più supporterete il nostro pugnace gruppo di lavoro, oppure potete fare libere donazioni da filosofico.net slash sosteneteci, filosofico.net slash sosteneteci, al costo di un caffè al mese potete sottoscrivere un abbonamento. Grazie a tutti, entriamo subito nel vivo, intanto le condizioni di Alessandro Meluzzi, tantissimi mi state scrivendo, siamo tutti vicinissimi ad Alessandro Meluzzi che come sapete purtroppo ha avuto un'ischemia cerebrale, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Cesena e siamo tutti in attesa di sapere condizioni buone, migliorate da parte sua, siamo in attesa, purtroppo ad oggi non abbiamo avuto novità rilevanti e quindi rimaniamo in attesa, nella speranza che Alessandro Meluzzi torni tra noi a combattere più pugnace che mai in prima linea per la ricerca della verità e la diffusione del sapere libero e disallineato, ecco appena avrò notizie vi aggiornerò, seguite sempre il mio canale Youtube nel quale faccio aggiornamenti quotidiani, abbiamo creato anche un canale Whatsapp filosofico.net slash Whatsapp, siamo anche su Spotify, su Twitter, Twitch, Telegram, Instagram, Youtube, Facebook, siamo su tutti i canali social, anche su TikTok, non facciamo i balletti su TikTok, Dio ce ne scampi, ma rifondiamo gli stessi contenuti che trovate sugli altri canali, quindi rimaniamo in contatto, aspettiamo di avere notizie, speriamo buone il prima possibile, su Alessandro Meluzzi e noi gli siamo sempre vicini, forza Alessandro siamo tutti con te. Poi c'è una notizia che ha per protagonista il padre di Giulia Cecchettin, mi pare si chiami Gino Cecchettin se non sbaglio, ebbene questa sera, domenica 10 dicembre, sarà ospite da Fabio Fazio nel noto e notoriamente pluralistico salotto di Fabio Fazio, che è una gran cassa del pensiero unico politicamente corretto e questa sera ci sarà ospite Gino Cecchettin. Siamo davvero sbalorditi della rapidità con cui è riuscito a riconquistare le forze, se la sente di andare in televisione a parlare, è veramente un uomo dalla forza invidiabile, ecco io devo dire la verità non oso neanche immaginare la condizione in cui si possa trovare, però trovare la forza per andare in tv a parlare di questi temi è una forza invidiabile, ecco mi limito a dire questo. Quello che dico subito mi pare un poco sconvolgente è questa continua spettacolarizzazione che di questa triste vicenda viene fatta dai media che continuano a parlarne, a discuterne, a mostrare sui maxischermi, è anche stato trasmesso il funerale, tutto questo mi lascia personalmente perplesso, ma naturalmente sa va a san dire un giudizio personale, non voglio condannare e giudicare nessuno, dico soltanto che mi pare che davvero nella civiltà dello spettacolo tutto diventi spettacolo, perfino ai noi la morte delle persone, ma questo è un giudizio, ripeto, sulla civiltà dello spettacolo, non voglio giudicare le sensibilità di chi che sia, ci mancherebbe altro, ognuno elabora il lutto come ritiene, ognuno fa quel che si sente e ci mancherebbe altro. Bene, poi ci sono anche altre notizie, non so se avete sentito, sono tornati a farsi vivi, non che ne avvertissimo la mancanza, devo dire la verità, gli ecoattivisti come vengono chiamati, io personalmente preferisco appellarli ecovandali, dato che il loro attivismo per l'ambiente assume spesso, anzi quasi sempre, forme palesemente vandaliche, come bloccare il traffico sulle strade, imbrattare le opere d'arte o le pareti, o, ed è il caso che mi accingo a discutere, tinteggiare di verde le acque, l'hanno fatto a Milano sui navigli, l'hanno fatto a Venezia, forse anche a Torino se ho letto bene, insomma la nuova moda degli ecovandali è quella di tinteggiare di verde le acque, ora io mi domando quale rapporto ci sia tra tingere le acque di verde, dicendo peraltro che non inquina e prendersi cura dell'ambiente, ecco a me non pare ci sia alcun nesso fra le due cose, probabilmente sono epimeteico io, voi sapete che epimeteo era il fratello un po' lento nel comprendere di prometeo, vedeva dopo, epi vuol dire dopo in greco, è colui il quale si accorge dopo delle cose, sarò un poco epimeteico ma non vedo alcuna connessione fra il tinteggiare le acque di verde o l'imbrattare i monumenti e la giusta difesa dell'ambiente, per inciso la giusta difesa dell'ambiente si fa criticando il capitalismo e non invece come fanno costoro proponendo la green economy che è una risorsa del capitalismo e poi celebrando appunto il capitalismo stesso, tra l'altro nel mio nuovo libro sinistresce che è una forma di viaggio dantesco nell'inferno della sinistra post comunista c'è anche una parte sulla nuova sinistra verde, la green left potremmo definirla, c'è la sinistra fucsia, la sinistra arcobaleno e c'è anche la green left, la sinistra verde di completamento del neoliberismo fintamente ambientalistico e ultracapitalistico in realtà ebbene è così. E poi siamo ormai giunti alla prova del 9 perché presto si dovrà decidere sul mess, che fare? Il governo italiano della destra bluet neoliberale di Giorgia Meloni alla fine approverà il mess? Questa è la domanda che in tanti pongono, si abbasserà anche su questo punto a tradire le proprie premesse e le proprie promesse? La massima parte delle proprie premesse e delle proprie promesse il governo di Giorgia Meloni le ha già tradite, l'abbiamo visto, un governo totalmente allineato al verbo di Washington, dell'Unione Europea, delle banche, del capitale, prossimamente vedremo se si piegherà anche sul tema del mess. So bene che nel governo ci sono anche figure rispettabilissime come Claudio Borghi e Alberto Bagnai che si oppongono da tempo all'Unione Europea e quindi anche al mess, però temo che siano una voce, un pochino come si dice, una vox clamantis in deserto, la voce di chi chiama, di chi urla nel deserto, ho il sospetto che alla fine questo governo approverà anche il mess e lì sarebbe davvero la caporetto definitiva di questo governo ampiamente criticabile. Diego ma Foucault era arcobaleno? Bella domanda. Secondo Jean-Paul Sartre Foucault era l'ultima barricata innalzata dalla borghesia contro il marxismo, questa era la lettura di Sartre, io in parte la condivido anche se devo dire in Foucault ci sono anche spunti di pensiero critico non trascurabili e quindi non liquiderei totalmente Foucault anche se sicuramente preferisco Marx, Lukács, Bloch e Gramsci a Foucault, ma appunto per ragioni che ho anche spiegato nel mio libro Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo per chi fosse interessato a questi temi. Poi c'è una notizia, voliamo da Foucault e Lukács a Chiara Ferragni, quindi un volo non propriamente perfetto probabilmente, però Chiara Ferragni ha raggiunto o sta raggiungendo il record assoluto di incassi, buon per lei, però c'è un piccolo dettaglio che viene riportato da Open, il rotocalco turbo mondialista del direttore Enrico Mentana, il dettaglio è che riceve quest'anno 150.000 euro di finanziamento dallo Stato italiano, pare per piani post-epidemici. Ecco, a me pare una cosa incredibile che chi fattura lavorando, facendo onestamente, immagino quello che fa, si veda pure aiutato dallo Stato. Io penso che quel poco di risorse che ci sono andrebbero meglio destinate per il welfare, per il lavoro, per lo Stato sociale, per la sanità, invece no, 150.000 euro destinati, dice Open a Chiara Ferragni. Insomma, lo Stato neoliberale anziché aiutare chi fatica ad arrivare a fine mese, aiuta Chiara Ferragni, apprendiamo da Open. E va bene, una chiara immagine dello Stato neoliberale, non che ve ne fosse particolare bisogno. Sapevamo bene le intenzioni generali dello Stato neoliberale, il suo programma. Lo Stato neoliberale fa welfare a rovescio, cioè aiuta le banche, i ricchi e non chi ha bisogno. Ecco, è il rovesciamento del keynesismo. Me ne sono occupato nel mio libro Globalizzazione, se foste interessati su questo concetto del welfare rovesciato che viene praticato dallo Stato neoliberale. Vi ricordo che parte da metà gennaio il mio nuovo corso online in quattro lezioni, la società transumana, quattro lezioni sul gendere, sull'intelligenza artificiale, sulla disumanizzazione dell'uomo, detta transumanesimo, e sulla robotizzazione del mondo della vita, quattro lezioni online che si svolgeranno da metà gennaio, da me tenute il lunedì dalle 18 alle 19 e 30. Il costo dell'intero corso è di appena 50 euro, quindi è come se regalato. Per saperne di più e iscriversi basta andare su filosofico.net, in basso c'è la locandina con tutti i dettagli. Potrebbe essere anche, la butto lì, un buon regalo di Natale per qualche amico o per qualche nemico che volete rieducare al pensiero critico e potete fare questo regalo di Natale. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti in presenza, ci vediamo il 12 dicembre a Castelfidardo, provincia di Ancona, insieme a Gianluigi Paragone, poi ci vediamo il 14 dicembre a Udine per la presentazione del mio nuovo libro, eccolo qua, Sinistras, critica del neoliberismo progressista, ci vediamo il 15 dicembre ad Abano Terme con Andrea Cionci e Don Alessandro Minutella, poi ci vediamo ancora il 18 dicembre, sempre con l'amico Gianluigi Paragone a San Severino Marche, poi ci vediamo il 22 dicembre in provincia di Lecco per una bella serata di filosofia e pensiero critico con Cosimo Massaro e Roberto Quaglia. Trovate tutto scorrendo le mie stories su Facebook, su Instagram, su Telegram o contattandomi, anzi se volete organizzare un evento o la presentazione di un libro che può essere Sinistras, ma anche uno dei miei libri precedenti, una cena platonica, una conferenza filosofica, andate su filosofico.net alla voce contatti, mi scrivete, io vi do gli aggiornamenti su tutto, grazie di cuore. Vi ricordo ancora che se volete dare un contributo al nostro pugnace gruppo di lavoro, il cui motto è liberi di sapere e di far sapere, potete supportarci. Come? È facilissimo, cliccate su Abbonati durante la diretta su Instagram o sulla pagina Facebook, in alto c'è la voce Abbonati, o su YouTube c'è il canale Abbonatevi al costo di un caffè al mese, supportate il nostro pugnace gruppo di lavoro, oppure potete fare libere donazioni da filosofico.net slash sosteneteci, filosofico.net slash sosteneteci. Grazie di cuore a tutti e grazie ai tantissimi che mi stanno scrivendo mentre leggono Sinistras, a secolo qua contro il neoliberismo progressista. Grazie di cuore a tutti, un caro saluto vespertino da Diego Fusaro.